Come sono gli autobus? Vuoti, siamo pochi per ora, quindi ci si sta abbastanza bene E' il ritorno che sono abbastanza pieno Ecco, ritorno ancora pieni? Abbastanza, cioè dipende in quale piglio Come rientro stamani? E' dura, perché piove anche, quindi... Quanti giorni e settimana sarete in classe? Questa settimana tre e poi settimana prossima tutto a scuola Questa situazione che siamo un po' a casa, un po' a scuola Non aiuta anche per prepararsi all'esame Infatti come diceva anche il mio amico Secondo me le quinte è meglio che stiano sempre a scuola Settimana di compiti? Eh, piano! Interrogazioni? Oio! Perché tutti hanno aspettato il rientro, insomma Per forza, scicariano sempre Si riparte anche se voi non avete mai chiuso, insomma Sì, certo, cioè la scuola non ha mai chiuso neanche un minuto Cosa fate dei tamponi? Tamponi, tamponi, tamponi Vengono tamponati, ci sono cinque classi a campione della scuola Le classi le abbiamo scelte in maniera che fossero rappresentate classi Dalla prima alla quinta E certo, con una casualità ovviamente Dei vari indirizzi abbiamo fatto una scelta Buongiorno, insegnante? Sì, mi faccio tardi in classe Scusi Draghi ha detto che le categorie sono state un po' saltafila Lei si è vaccinato? Sì, mi sono vaccinato, certo, certamente Si sente un saltafila? No, sinceramente no La cosa che, a parer mio, è sbagliata È proprio questo mettere una categoria contro l'altra Io saltafila, ma mi scusi Ma io sono saltafila, io sono insegnante Per dovere civico L'ho fatto, appunto Poi in quel periodo non lo davano alle fasce più importanti Da vaccinare, aiuto a un tantenne